Allora, possiamo mettersi un po' indietro, un po' che indietro per favorire? Allora, andate indietro, perché devono scenderla, andiamo indietro perché devono scenderla. Andiamo un po' indietro per favorire la discesa della Madonna e proseguire a piedi. Andiamo indietro perché devono scenderla. Andiamo un po' indietro. Andiamo un po' indietro per favorire la discesa della Madonna e proseguire la discesa della Madonna. Andiamo un po' indietro.